Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore che tu non hai il permesso per accedere alle cartelle e fare così delle modifiche nella cartella di Fortnite Game oppure quando vai ad aprire Fortnite ti potrebbe anche uscire questo errore che tu non hai proprio il permesso per toccare questo programma oppure farci delle modifiche all'interno quindi in questo caso se noi andiamo su gestione computer lo trovi direttamente sul tasto il logo di Windows, tasto destro sopra, gestione computer ed eccolo qua una volta fatto dobbiamo andare su utenti e gruppi locali, utenti, su gruppi, amministratori ed eccoli qua ovviamente se tu hai creato per la prima volta un tuo profilo utente sul pc, ovviamente tutti lo devono creare un profilo utente sul pc quando lo compri per la prima volta e devi crearti un account della Microsoft ovviamente si crea direttamente qua sopra questo è il mio nome, questo è sugli amministratori, modifica impostazioni account ed eccolo qua ovviamente tutto da qui puoi crearti un tuo account Microsoft e accedere all'account Microsoft ovviamente qua diventerai amministratore del tuo computer e puoi fare quello che vuoi ai file perché il pc è tuo, quindi tu sei il proprietario del computer quindi in questo caso hai creato così il tuo profilo utente e dovrebbe uscirti qua una volta fatto andiamo a mettere su aggiungi, eccolo qua vai su avanzate, trova come dicevo l'account dovresti per forza avere qua sopra come puoi vedere questi sono tutti i nomi che ho creato sul mio pc e come puoi vedere c'è anche il mio nome come amministratore default account, l'account principale del computer ed eccolo qua, questo qua con la mia email ovviamente si collega tutto all'account Microsoft quindi c'è anche la mia email clicco qua sopra ed eccolo qua da questo percorso il mio nome immetto i nomi degli oggetti da selezionare e il mio nome, faccio ok ovviamente mi dirà Tony tu hai già nell'elenco io sono già amministratore ho aggiunto il mio profilo negli amministratori e faccio ok vi faccio vedere prima questa cosa qua perché poi dobbiamo andare a fare delle modifiche nella cartella di Fortnite però prima bisogna creare mettere il tuo nome utente qui dentro, quindi negli amministratori quindi il mio nome c'è quindi in questo Tony 2 ci sono tutti quei nomi che avete visto all'inizio quindi chiudiamo un attimo qua abbiamo aggiunto così il nostro profilo utente là dentro mi raccomando se hai problemi commenta oppure riguarda questa parte ora quello che ci resta da fare è andare direttamente nella libreria 3 puntini gestisci andiamo nella sua cartella Fortnite Game Binaries Win64 e scendiamo fino a giù fino a trovare il Fortnite Client Win64 Shipping ovviamente l'errore si collega a questo Fortnite Fortnite Game su Win64 Shipping questo qua tasto destro sopra proprietà sicurezza ed eccoli qua come puoi vedere io sono amministratore anche di questa cartella come avete visto TonyGamer17 stesso nome che avete visto sul gruppo su gestione dei computer dove ho messo il mio gruppo quindi vado su modifica ed eccoli qua allora amministratori come puoi vedere ci sono tutte queste spunte questo controllo completo se a voi non c'è oppure c'è Nega e c'è per esempio non ha il permesso per modificare questa cartella per questo ti ho fatto vedere come aggiungere il tuo nome in quel gruppo degli amministratori quindi devi aggiungerti te stesso mettere il tuo nome che hai creato sul tuo computer autorizzazioni speciali ovviamente utenti TonyGamer17 e io metto consenti consenti tutto ed eccolo qua faccio applica e ho messo tutto e faccio ok ovviamente io lo faccio su tutto quindi utenti TonyGamer17 size stem e questo qua quindi faccio su questo modifica consenti consenti tutto e faccio applica e faccio ok se non dovesse funzionare qua sopra fallo su tutti i file di fortnite anche sul fortnite launcher e anche su epic games quindi sicurezza user TonyGamer17 io adesso vado di nuovo su gestione computer per fare un attimo un controllo quindi utente gruppi locali gruppi amministratori aggiungi sugli amministratori avanzate trova TonyGamer17 ed eccolo qua ci ricco sopra e faccio ok e invece sembra che io già sono nell'elenco degli amministratori modifica consenti tutto e fai applica e ci ho pure il permesso per fare modifiche nella cartella e accedere a fortnite quindi quello che ti resta da fare poi comincerà a diventare molto facile tu basta che aggiungi te stesso in questa cartella dei gruppi degli amministratori puoi farlo su tutto questo elenco quindi amministratore amministratore hyperview che si riferisce soprattutto ai giochi che usano questo software per esempio bluestacks anche il programma il software il programma android che puoi usare i giochi android sul tuo pc quindi se tu come puoi vedere Tony2 è aggiunto negli amministratori quindi io posso fare modifiche anche su bluestacks puoi vedere bluestacks quindi come ho detto se hai problemi commenta sotto al video riguarda la guida più volte ovviamente poi come ho detto diventerà più facile poi diventare proprietario avere il controllo completo del tuo computer risolvere questo problema su fortnite e lo fai anche sul fortnite client w64 shipping questo qua che c'è il logo dell'easy anti cheat e lo fai anche nella cartera dell'easy anti cheat trattino basso camo ovviamente non ho mai problemi a giocare a fortnite perché risolvo sempre questi problemi aggiungo i driver sistemi faccio le verifiche a questo gioco e non ho mai problemi riguardo a questi errori quindi quello che mi resta da fare è avviare direttamente fortnite ed eccolo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like se hai problemi come ho detto commenta sotto al video riguarda la guida nelle schede ci sono video recenti più di 40 tutorial su come risolvere molti errori su fortnite riguardo a directx riguardo all'errore dell'easy anti cheat che non si avvia assieme a fortnite oppure l'errore della real crash report oppure l'errore fatale di fortnite tutte le guide nella playlist di fortnite quindi il gioco a me si sta avviando connessione in corso il gioco sta andando senza nessun problema quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao